Tifosi bianco celesti ben ritrovati con l'Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella è la prima puntata della settimana ma è già giornata di vigilia per i bianco celesti che domani tornano in campo. Il turno infrasettimanale del campionato di Serie C in Auale 18.30 l'Entella al Comunale ospita il Perugia una gara certamente molto importante e complicata vista la forza dell'avversario per assistere al match i biglietti saranno in vendita per tutta la giornata di domani sino al termine del primo tempo nella biglietteria dello stadio così come è aperto anche il Temporary Store per l'acquisto del merchandising ufficiale dell'Entella. Come ogni giornata di vigilia nella presentazione è affidata alla voce del tecnico bianco celeste Fabio Gallo, andiamolo a sentire. Servirà una prestazione che dura tutta la partita e non come è successo a Cesena e quindi una prestazione di orgoglio. Tutto il resto sono parole che portano via il vento, ci vuole una prestazione di grande carattere e di grande attenzione consapevoli della forza dell'avversario. Ma sul fatto che dobbiamo fare il più punti possibili dove riusciamo a fare punti col massimo dell'impegno e con il massimo della determinazione. Ma sicuramente qualcosina si cambierà ma non avendo tutto a disposizione bisogna fare delle necessità virtù e quindi chi sarà chiamato in causa dovrà garantire una prestazione di grande carattere e di grande cuore a prescindere da tutto. Questa la voce di Mister Gallo, allenamento di rifinitura per la squadra oggi pomeriggio al Comunale in vista della partita di domani. Non ha giocato però soltanto la prima squadra in questo fine settimana, tante sfide del settore giovanile in campo in questi ultimi due giorni. Vi abbiamo raccontato live dal Daniele di Caperana la vittoria del derby della primavera di Mister Massimo Melucci che mette insieme il terzo risultato utile consecutivo battendo 4-2 lo spezzo al termine di una bellissima prova corale. A parte di tutto l'undici bianco celeste che con merito ha vinto una gara importante. Doppio pari invece con la Provercelli per Under-17 e Under-15 cadono in casa i 16 di scotto sconfitti 4-2 dall'Albino Leffe. Entella Time si chiude proprio con le dichiarazioni di Mister Melucci e vi diamo appuntamento a mercoledì alle ore 19. Sì, è vero, abbiamo fatto un bel inizio di partita, abbiamo comunque riuscito a trovare in una situazione un gol con una bella situazione di squadra e quindi siamo partiti bene. È una partita complicata, cioè è una partita dove il livello dell'altra squadra è alto e quindi è venuta fuori una bella partita. Naturalmente dopo l'episodio che sono rimasti in 10 può favorire, però anche ad alto livello, a volte quando si rimane in 10 o in 9 qualche risultato buono lo porti a caso uguale. Quindi abbiamo fatto comunque una prestazione cercando di continuare a fare e quindi sono stati bravi i ragazzi a interpretarla bene. Grazie. 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 Grazie.